Organizzato fin dagli anni 90 in molti luoghi della Germania e gestito localmente dalle associazioni del territorio, il Tour della Speranza, un itinerario in bicicletta che raccoglie fondi a sostegno dei bambini ammalati di cancro, per la prima volta quest'anno esce dai confini nazionali e si conclude in Italia. Precisamente arriva del Garda, città che accoglie il traguardo dell'edizione 2017 del Tour der Hofnung, della città gemellata di Bensheim, per l'occasione ribattezzato Tour der Riva, dal 17 giugno al 24 giugno, 777 chilometri che toccano nove città di tre paesi. Il valore dell'iniziativa, oltre che nella raccolta di fondi, di cui una parte sarà destinata all'unità operativa di prototerapia dell'ospedale di Trento, sta nella sua capacità di coinvolgere grandi platei di persone. Anche a Riva del Garda sono numerose le associazioni e gli enti coinvolti, tra cui Club La Bacionela, Proloco e Corpo Bandistico, organizzeranno degli eventi dedicati e finalizzati alla raccolta di fondi, mentre l'APT Garda Trentino e Riva del Garda, fiere congressi, sosterranno da sponsor l'iniziativa. Una parte delle entrate deriva dalla quota di iscrizione dei partecipanti del Tour, che pagano 1077 euro di iscrizione, ma soprattutto danno corpo al Tour, il quale farà tappa oltre a Bensheim, in Germania, Pforzheim, Heschingen e Friedrichhafen, in Austria Schronze e Lande, che in Italia Sillandro, Caldaro e Riva del Garda. Il 24 giugno, giorno di conclusione del Tour, si terrà in piazza Cesare Battisti a Riva il concerto della Banda dell'Esercito della Repubblica Federale di Germania.